Oggi vedremo come usare un sensore per la pioggia, molto utile in questi giorni soprattutto se piovesse, fa un caldo bestiale. Il sensore per la pioggia è un sensore semplicissimo, lo trovate anche in molti kit di sensori che vengono venduti online. Ha una piccola piastrina con una specie di serpentina che rileva l'umidità o la presenza d'acqua, può dare una risposta digitale o analogica per capire quant'è la quantità d'acqua che viene misurata. Lo potete magari mettere all'interno di un recipiente o un bicchiere in modo che a seconda dell'acqua che c'è dentro vi dà un'indicazione molto spannometrica. Iniziamo subito. Il sensore per la pioggia FC37 è una schedina che potete collegare al vostro Arduino, è formata da due parti, una scheda principale e il sensore vero e proprio. Potete vedere qua in questa foto, quindi la schedina è una di quelle classiche breakout board, è dotata di questa tavoletta con tutta una serie di pettini che servono per andare a misurare la presenza di acqua o umidità. La schedina ha due pin a cui andate a collegare il sensore, quindi la tavoletta che poi deve essere esposta all'ambiente in modo che le gocce d'acqua possano andare a cascare sopra e quindi possono andare a rilevare l'umidità. Può funzionare o con l'acqua, addirittura poi vedrete nel video che ho fatto, potete appoggiare il dito umido e riesce a rilevare anche in questo modo la presenza di umidità. Ovviamente funziona con l'acqua e può andare a darvi una misura sia analogica che digitale della quantità d'acqua, quindi a seconda della resistenza che va a misurare. Ha quattro pin su questo lato, abbiamo il primo che è il 5V che serve per l'alimentazione, il secondo pin che è il ground, poi abbiamo un'uscita digitale segnata come D0 e un'uscita analogica segnata come A0. La potete collegare al vostro Arduino a piacere, quindi avrete il 5V da collegare al 5V di Arduino e il ground al ground e poi potete prendere il pin di 0 e collegarlo direttamente a uno dei pin digitali, nel mio caso l'ho collegato al pin 2 oppure prendere il pin A0 e collegarlo a uno dei pin analogici di Arduino, vedremo due esempi e l'ho collegato ad A0. Sulla breakout board avete anche un trimmer che serve per andare a modificare la sensibilità della tavoletta in modo che possa rilevare in modo più o meno sensibile la presenza d'acqua. C'è presente anche un led, un piccolo leddino, ne avete due, uno se c'è per indicare che la scheda è alimentata, quell'altro invece è collegato all'uscita digitale e si attiva quando il segnale rilevato supera una certa soglia. Sulla scheda c'è un piccolo circuito integrato, è un amplificatore operazionale, quindi un piccolo amplificatore che viene usato per comparare il livello di resistività rilevato dal sensore con quello impostato dal trimmer. Andiamo a vederlo come usarlo nelle due modalità. Partiamo sempre da uno sketch vuoto, andiamo ad aggiungere, nel primo caso lo useremo come digitale, quindi farò pin mode di 2 come input. Vado ad aggiungere la seriale, quindi serial.begin9006 per poterlo leggere sulla console. La lettura, nel caso digitale, è semplicemente la lettura di un pin con una digital read, quindi facciamo int t uguale digital read di 2. Questa la possiamo andare a stampare, serial.println.dt e diamogli un delay di 100. Salvo, compilo e la carico. Potete vedere bagnando il dito, nel caso digitale, come vado a toccare il sensore. Ho che il segnale in uscita passa da alto a basso, quindi mi va a produrre una variazione. Quindi posso andare a leggere questo segnale per capire che c'è l'umidità oltre alla soglia impostata. Vediamo come far funzionare la versione analogica. Basta una semplice modifica al nostro sketch. Teniamo sempre il serial begin. Per leggere l'analogico non ci serve niente. Andiamo a modificare nel loop, invece che il digital read, facciamo analog read della porta a 0 su cui abbiamo collegato il nostro sensore. Andiamo a stampare qua il valore che abbiamo rilevato. E apriamo poi, non il serial monitor, ma il plot seriale, come abbiamo visto prima. In questo caso vedete che la lettura mi dà un'indicazione del livello di umidità rilevato. Toccando col dito, se questo è poco umido, avremo una lettura più o meno forte a seconda dell'intensità. Possiamo andare a usare questa rilevazione per capire quanto è il livello d'acqua che va a colpire il nostro sensore. Questo può essere messo, per esempio, all'interno di una bacinella che poi viene riempita. Avete visto quanto è semplice utilizzarlo? Non dovrebbero esserci problemi. Vi fornisce una doppia uscita analogica e digitale, quindi può essere utile a seconda dei casi. Bene, se fossero dubbi o domande, lasciatemi un commento, vi risponderò appena possibile. Vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!